Quattro giorni di ritiro per la Seidana qui a Cascia, il primo da parte di Salerno Granata. Ricordiamo che la nostra redazione sarà qui dieci giorni pronta a farvi compagnia in questa prima fase di rovità gestivo della squadra Granata. Diciamo subito un aspetto importante, ci eramo lasciati a San Vito di Cadore che faceva tanto freddo, pioveva pure. Qui invece c'è un caldo enorme, molto sicco e tra l'altro è anche difficile lavorare per addetti ai lavori perché in quanto ci sono tantissimi animali, moscerini, mosche e quant'altro, non esageriamo amici degli spettatori però vi posso dire che non è a quanto facile in questo senso. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, la squadra Granata ha sostenuto il suo primo allenamento qui al centro sportivo Elite e ha iniziato verso le 9, ha sostenuto una partitella a ranghi misti salvo poi effettuare degli esercizi atletici. In particolar modo si è rivisto il vecchio Lula Hop, abbiamo visto un Pestrin particolarmente reattivo, bravo o qualche difficoltà invece per Nappo con la classica corte degli anni 50. Bravo ha naturalmente anche Cristea, naturalmente abbiamo visto dei volti molto sorridenti, distesi, si vede che c'è armonia tra il gruppo abbiamo visto un Eusepi subito che è entrato in sintonia con i ragazzi, in particolar modo con Moro a riguardo l'ex capitano dell'Empoli si sta candidando per essere il nuovo capitano, nonché il leader della Salernitana abbiamo visto che scherza con i compagni, ha preso più di una volta di mira a fall a riguardo l'ex serenalese si vede subito che ha una grande nuda atletica però ad ogni modo è stato un po' oggetto di qualche battuta goliardica da parte di Moro detto questo bisogna dire che adesso la Salernitana si sta riposando ricordiamo che adesso Antonio ci inquadra anche l'hotel perché vediamo che il centro sportivo è proprio a due passi dall'hotel dove la Salernitana adesso sta pernottando, dopodiché nel pomeriggio, dove un breve riposo di circa un paio d'ore sosterrà l'allenamento pomeridiano, torno verso le 17-18 dovrebbe sostenere una leggera corsa atletica poi vedremo se il mister Torrente opterà anche per quanto riguarda l'utilizzo del pallone battuta finale, ci sono pochi tifosi Granata tuttavia abbiamo visto uno striscione del Salerno Club 2010 che sta proprio lì al campo in questo senso, chiosa proprio, ultima proprio prima di lasciarvi abbiamo detto del caldo, abbiamo detto dei pochissimi spettatori però ci sono diverse personalità naturalmente che quando riguarda la persona del posto intendo che stanno guardando con curiosità la Salernitana questo sicuramente è un aspetto curioso ma sicuramente importante perché si evince chiaramente come la Salernitana in questo momento sia un'attrattiva per una località turistica prettamente di tipo religioso come appunto Cascia